Volevo far presente che da un periodo di tempo passa acqua che dà fastidio, non possiamo dare le finestre aperte, siamo pieni di topi, pieni di zanzare e abbiamo una bella piantagiona che è cresciuta appunto a causa di quest'acqua che cade. Ho chiamato l'AMAM per farla intervenire e mi ha detto che non è di sua competenza. Di conseguenza se qualcuno può fare qualcosa le saremmo molto gratis, sono un cittadino che paga le sue tasse e quindi è lieto di avere diritto a questo. Per quanto riguarda la pulizia delle caditoie, dei torrentelli, degli affluenti e dei torrenti gli interventi li assicuriamo noi. Abbiamo da poco già pubblicato una gara per 750 mila euro che garantirà gli interventi di pulizia e messa in sicurezza di quei corsi d'acqua oggi praticamente avvolti dalla vegetazione. Io ricordo a tutti comunque che la vegetazione non è il problema che crea il pericolo sul deflusso delle acque ma piuttosto sono i rifiuti che vengono abbandonati lunghi corsi d'acqua e potrebbero creare quei tappi e quindi quegli effetti che potrebbero essere devastanti a seguito di un evento meteorico.